Hey folks, oggi parliamo di composizione fotografica. In tanti mi avete chiesto un approfondimento riguardante questo tema e per rendere il video scorrevole, utile e di facile comprensione ho stilato 8 punti che ora andiamo a vedere insieme. Iniziamo però dal punto numero 0, ovvero cos'è la composizione fotografica. Ve la faccio semplicissima. Immaginate di dover comporre un bouquet di fiori. Ci sono delle scelte da fare. Dovete scegliere la tipologia di fiori, i colori, i contrasti che volete ottenere, scegliere la tipologia di carta da porre attorno ai fiori e alla fine otterrete il vostro bouquet. Una buona composizione porterà un bouquet che funziona, una cattiva composizione porterà qualcosa che stona in qualche modo. Per la fotografia è la stessa identica cosa. Infatti la composizione non è altro che la somma di tutte le scelte che un fotografo deve fare per portare a casa la sua fotografia. Punto numero 1, regola dei terzi. La conoscerete sicuramente ma ripassare non fa mai male. Prendiamo la nostra scena e disegniamo virtualmente due linee orizzontali e due linee verticali. Otterremo 9 segmenti uguali e 4 punti di intersezione. Poniamo il nostro soggetto su una di queste linee oppure su uno dei punti di intersezione. Questo ci permetterà di rendere le nostre fotografie molto più ordinate, molto più leggibili e in determinate situazioni anche più dinamiche. Ovviamente la regola dei terzi va un attimo compresa e interpretata. Ovvero non è necessario che il vostro soggetto sia perfettamente simmetrico sulla linea o sul punto di intersezione però che sia in quella zona perché ciò vi permetterà di dare un po' più di brio alle vostre fotografie. Provate se non la conoscete ma anche se la conoscete già a fare le varie inquadrature così come vi vengono al momento e successivamente con la regola dei terzi. Una volta che vi entra in testa è automatica quindi quando sarà il caso di utilizzarla verrà da sola quindi non vi preoccupate, è solamente questione di provare e di fare un po' di esperienza. Secondo punto, in realtà ricollegato alla regola dei terzi centratura e simmetria ovvero alcune fotografie e alcuni soggetti semplicemente stanno bene al centro. Ovviamente la scelta dell'inquadratura è assolutamente soggettiva e spesso e volentieri fa proprio parte dello stile di un fotografo però è importante conoscere tutte le varie possibilità esserne quantomeno consapevoli. Simmetria significa porre il soggetto esattamente al centro del nostro frame tanto che se creiamo una linea abbiamo spazi equidistanti. Ovviamente ciò è possibile nel momento in cui gli elementi di disturbo non sono presenti all'interno della nostra scena altrimenti conviene ragionare normalmente con la regola dei terzi in modo da cercare di gestire un po' la situazione. Punto numero 3, colori e contrasti. Anche questi sono elementi fondamentali della composizione fotografica. Pensate solamente alle foto di Steve McCurry l'apoteosi dei colori complementari. Spesso e volentieri ci si adatta con quello che si trova. È completamente sbagliato perché nel caso in cui sia per esempio un set di ritratto si può tranquillamente prendere tempo e cercare di capire come andare a valorizzare il vostro soggetto. Nel caso in cui facciate street cercate piuttosto di posizionarvi in un punto sapendo già quello che volete fotografare. Esistono svariate teorie di vecchi street photographer per intenderci che si sono appostati per molto tempo nello stesso punto aspettando che accadesse esattamente ciò che avevano in testa. Considerate questo aspetto poi un giorno quando faremo un ulteriore approfondimento sulla street vi racconterò anche quella storia. Focalizzatevi bene sul cercare di portare a casa bei colori e bei contrasti fin da subito fin da prima della post produzione. Punto numero 4 Crea una cornice Qualche video fa vi ho consigliato di scattare attraverso a qualcosa inserire elementi anche di disturbo che però in realtà creano tridimensionalità oggi vi dico di scattare cercando di costruire una sorta di cornice perché la composizione è anche quello è un ottimo modo per guidare l'occhio verso il soggetto principale quindi cercate di sfruttare tutto quello che trovate perché a volte gli elementi di disturbo sono elementi di pregio se utilizzati nella maniera corretta non scoraggiatevi mai perché c'è sempre un modo creativo e comunicativo di poter sfruttare tutto quello che abbiamo attorno. Punto numero 5 secondo me è il più difficile semplifica ovvero più andrete a semplificare l'inquadratura la ricerca dei colori nelle vostre foto più riuscirete a gestire il risultato e arrivare a più persone perché se voi realizzate una foto super complessa per quanto possa essere bella e per quanto ovviamente possa essere accettabile e giusta e lecita è sicuramente per pochi e non per tutti invece tendere a semplificare quando se ne ha l'occasione ovviamente permette di trasmettere in maniera molto più diretta il vostro punto di vista quindi non complicatevi la vita cercando di fare chissà quale effetto all'interno delle fotografie perché alla fine spesso e volentieri una foto semplice, chiara e leggibile risulta molto più interessante di un'apoteosi di elementi che magari non c'entrano nulla l'uno con l'altro. Punto numero 6 l'ho chiamato visione insolita ovvero cercate un punto di vista particolare ve lo dico quasi in ogni video e lo so ma a mio parere è veramente la chiave per poter raccontare in maniera originale in maniera particolare ed essere ricordati per uno stile. Ultimamente va molto di moda la fotografia con i droni e funziona perché funziona? perché le fotografie, i paesaggi, i luoghi le persone viste dall'alto sono abbastanza rare è sempre esistita la fotografia aerea ma non era così in voga proprio per i limiti del poterla fare invece ora con i droni è molto più semplice e quindi da lì stanno uscendo un sacco di artisti che stanno proprio reinventando la fotografia aerea quello è un ottimo esempio di visione insolita ovviamente una visione insolita si può fare anche da terra quindi cercate quando rappresentate i vostri soggetti di avere un punto di vista veramente particolare di sperimentare mi viene in mente anche il nudo io ho provato a vedere alcuni fotografi di nudo seri gente che fa nudo in un certo modo fotografare i dettagli del corpo come se fossero proprio forme sinuose quasi astratte quello è un punto di vista insolito particolare che sicuramente attira l'occhio proprio perché cerchiamo di capire la forma cerchiamo di capire cosa vuole comunicare l'autore quindi non fermatevi alla classica foto frontale perché comporre significa anche essere creativi significa anche usare non fatevi male non fatevi arrestare per andare su un tetto illegalmente e fotografare dall'alto questo è logico però cercate sempre dei punti di vista originali vostri e personali punto numero 7 avvicinati un po' di tempo fa un grande fotografo disse se la foto non ti è uscita bene è perché non eri abbastanza vicino e scrivetemi qui sotto nei commenti di chi si tratta è una verità assoluta il dettaglio è un ottimo modo per raccontare qualcosa e anche quello ovviamente fa parte della composizione perché è una scelta se io fotografo per esempio le mani di un muratore potrei raccontare la sua vita e anche molto di più piuttosto che facendogli un ritratto classico in primo piano ogni elemento ogni soggetto che andate a fotografare che sia un essere umano che sia un prodotto che sia un paesaggio ha sempre un dettaglio sta al fotografo coglierlo in modo da raccontarlo in maniera più originale e meno già vista ottavo e ultimo punto rompi le regole come potete vedere di regole qui ce ne sono ben poche sono tutti spunti sono tutti consigli sono tutti suggerimenti esiste la regola dei terzi che è una regola accertata al 100% ma per il resto la fotografia e di conseguenza la composizione fotografica è questione di personalità è questione di approccio personale cercate di studiare molto bene le inquadrature cercate di ragionare bene quando andate a comunicare qualcosa perché c'è sempre un modo migliore del primo che vi viene in mente quindi ragionate attentamente ponderate e valutate dopodiché scattate e poi da lì ci sono tutti gli altri passaggi di post produzione di editing che vanno a riconfermare ulteriormente uno stile questi sono i miei spunti per migliorare un po' la composizione fotografica sono universali non sono andato ad addentrarmi dentro nessun genere in particolare ma voi chiaramente potete farlo qui sotto nei commenti per arricchire questo contenuto vi ricordo di seguirmi su Instagram sulla mia pagina Telegram dove quasi quotidianamente pubblico news ispirazionali sulla fotografia a misura di smartphone dategli un occhio che è interessante io vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce buona luce